Cordiale buon pomeriggio anche da parte di Alex Guadagno. È una corsa per tre anni Maiden, quindi che non abbiano mai vinto in carriera. Sono 15 concorrenti al via sulla distanza del doppio chilometro. I cavalli più seguiti al gioco sono il 2 di Diabolic Griff. Il 7, Dinamite di Celle. E poi subito di rincalzo da Shiba Wild con quota leggermente in discesa. Demetra JVS che si avvierà dal 9 con Antonio Simioli. Inserimenti possibili anche quelli degli altri. Partendo probabilmente da Denalda OP che parte forte e dovrebbe andare subito nelle prime posizioni. La macchina è in movimento. Le luci si accendono. Dout, Despar, Luigi Panico, Diabolic Griff, Antonio Di Nardo, Druso Nerone, GPD, Gennaro Amitrano, Denalda OP, Antonio Velotti, Deinoff, Max Pignatelli, Da Shiba Wild, Domenico Luongo, Dinamite di Celle, Mario Minopoli Junior, Donatello VF con Crescenzo Maione. Seconda fila Demetra JVS, Antonio Simioli, Daniele Leone, Gaetano Di Nardo, Dream, GR, Romeo Gallucci, Dominio, Vincenzo Gallo, Dream of Derby Par, Vincenzo D'Alessandro Junior, Danubbio FG con Giorgio D'Alessandro Junior e Dollar Alter con Mattia Orlando. Leggermente discosti il 6, il 7, l'8. Problemi in seconda fila per Dominio. Galoppa di Deinoff. Denalda OP. In avanti sullo 14 di Danubbio FG, partito molto bene dalla seconda fila. In terza posizione c'è Dinamite di Celle. Poi Dout Despar nelle prime posizioni. Se ne va il lancio di Denalda OP e Antonio Velotti in 16. E vengono via Dinamite di Celle ma soprattutto il 15 di Dollar Alter. Insiste Mattia Orlando, anch'essi lesto nella fase iniziale, a chiedere strada a Denalda OP che si oppone. E resta in vantaggio 38. I primi 400 si accoda alle spalle di Denalda OP. Dollar Alter in terza posizione. Dinamite di Celle che precede Danubbio. Si muove Diabolic Griff. Diabolic è controllato da Dinamite di Celle che forse ne vuole carpire la scia. Per cui Dinamite in seconda ruota ed in terza Diabolic Griff puntano in avanti. Dove c'è sempre Denalda OP con Antonio Vitello. Insiste Diabolic Griff a largo di tutti. Si presenta deciso a chiedere strada al passaggio del chilometro in 16.6. Ma resta lì in terza corsia e Denalda OP in vantaggio con Dinamite di Celle all'esterno. Diabolic indietreggia lungo i birilli Dollar Alter. Dinamite di Celle si riaccoda ora alle spalle di Denalda OP. Attacco del penultimo rettilineo. Cede Dollar Alter in terza posizione si migliora Danubbio alle spalle di Dinamite. Denalda sempre in vantaggio. Nei confronti sempre di Dinamite di Celle. Poi Danubbio FG e Diabolic Griff che si riorganizza. Cavalli al passaggio del miglio che Denalda OP passa in 2.1.5. Ancora in vantaggio Antonio Velotti con la sua Denalda OP che tentano la fuga da Dinamite di Celle. Diabolic Griff che deve essere guidato con eccellenza da Antonio Di Nardo e prova a riproporsi. Denalda in vantaggio a largo di tutti. Ritorna preponderante Diabolic Griff e Antonio Di Nardo. Diabolic Griff e più diabolico di lui Antonio Di Nardo che siglano il successo in 2.31.8. al secondo Dinamite di Celle e al terzo Denalda OP 2.7.4. Questo è il probabile arrivo della seconda corsa. Diabolic Griff ci aveva provato a puntare in avanti davanti alle tribune. Si è dovuto accontentare Antonio Di Nardo per riprenderlo e portarlo di nuovo alla concentrazione per la gioia anche di Crescenzo. La scuderia CMC sabato bevi l'acqua al training da programma. Antonio Di Nardo, Diabolic Griff che si toglie la qualifica di Maiden, il potente figlio di Conway Hall. 2.31.8 la distanza per cui una media che si aggira intorno all'1.15.7-15.8. Togliamo forse qualcosina per il parzialino iniziale. Diciamo un 15.5 ufficioso per Diabolic Griff. Numero 2. Diciamo un 15.5 ufficioso per di cui una media che si toglie la qualifica di Crescenzo. Diciamo un 15.5 ufficioso per di cui una media che si toglie la qualifica di Crescenzo. Diciamo un 15.5 ufficioso per di cui una media che si toglie la qualifica di Crescenzo.